Questa iniziativa è partita da me, però è stata condivisa subito da tutte le altre amministrazioni. Si vuole fare sinergia nello sport, perché lo sport deve essere non solo un momento di condivisione di una passione, ma deve essere anche un momento per attirare turisti sull'isoladisca e soprattutto attirare un turismo, diciamo, giovane e di settore. Le associazioni che sono presenti nella sala veramente sono tantissime e c'è tanta volontà di creare un qualcosa di buono per tutta l'isola. Stanno emergendo delle idee, stanno emergendo anche delle difficoltà. Dovremmo programmare già per l'anno prossimo, perché avremo a fine maggio, a distanza di un giorno, due eventi di associazioni che fanno podismo, la Maratonisole e poi c'è un'altra associazione di Forio che fa triathlon e una corsa podistica. L'anno zero, cioè si parte e poi si vede un po' diciamo nell'anno prossimo di partire ancora con più anticipo. È un momento anche di promozione del nostro territorio, il momento in cui la politica si unisce per cercare di trovare e di iniziare delle soluzioni che consentano alle associazioni di soffrire di meno la burocrazia che spesso purtroppo sei comuni generano quando le iniziative coinvolgono tutto il territorio isolano. Tentiamo di fare un programma unitario che consenta di evitare la sovrapposizione di questi eventi, che snellisca le procedure affinché loro possano tranquillamente interloquire con gli enti sovracomunali per avere le autorizzazioni necessarie e contemporaneamente promuovere il territorio attraverso queste iniziative. Lo sport come veicolo di turismo. In basso stagione questo può essere anche un modo per valorizzare il territorio, far conoscere rischi anche a un turista che normalmente è legato allo sport. Stiamo valutando l'ipotesi proprio per snellire quelle procedure di cui dicevamo prima, di avere una sorta di consulta dei delegati di ogni singola amministrazione, in modo tale che tutto scorra in maniera più veloce e le cose avvengono in maniera più perfettibile possibile. Applaudo sicuramente l'idea che è partita dalla dottoressa Piero insieme a Ottorino Mattere e alcune dische. Vedo che c'è anche l'adesione degli altri comuni. L'auspicio è che oltre a mettere a sistema gli eventi sportivi, mettere a sistema il mondo dello sport, che sulla nostra isola vive le criticità, che sono di quelli che operano su un'isola, il problema del collegamento con la terraferma, le infrastrutture, che è un problema cronico. E quindi che il mondo dello sport si incontri anche per qualsiasi occasione. Questa volta per gli eventi è una notizia buona. L'auspicio è dato la mia disponibilità a supportare come rappresentante del CONI sull'isola Dischia, a qualsiasi iniziativa loro vogliano mettere in campo, anche coinvolgendo soprattutto quelli che sono gli operatori che vivono la nostra isola. L'auspicio è che il mondo dello sport sia protagonista, ma siano protagoniste le associazioni sportive, i tanti dirigenti, formatori, atleti, che con grande abnegazione e grande passione vivono lo sport come momento di crescita, di stare insieme, favorendo appunto dinamiche positive nel tessuto.